Si è concluso ieri sera Natale in Beach al Palasport San di Eboli, una tre giorni che ha visto primeggiare nel Beach Volley la formazione a un'impresa, una grande prova di Pasquale Fulgione. Invece nel torneo di Beach Soccer vittoria per BSS Store con gol spettacolari fra cui quello di una vecchia gloria del Beach Luca Di Mieri. Super sfida amatoriale politici contro i giornalisti vinta dall'amministrazione per 6 a 5 con gol decisivo del sindaco Massimo Cariello. L'organizzatore Massimo Giussi conferma l'appuntamento esivo in Piazza della Repubblica a luglio.